Motore, ciak, azione! Mentre gli Stati Uniti sono impegnati con gli esperimenti sulla bomba H, a Hollywood Eddie Mannix si occupa di tenere lontani dalla stampa gli scandali delle star. La situazione si complica però quando nel bel mezzo delle riprese scompare il protagonista di un colossal su Gesù, rapito da un gruppo di ferventi comunisti. Sono davvero pochi i registi capaci di declinare la storia del cinema secondo letture che vanno dal dramma intellettuale alla commedia brillante. Ed i fratelli Coen sono tra questi. Ave Cesare racconta un mondo di attori goffi e totalmente incapaci di vivere nel mondo reale o di adattarsi a nuovi ruoli. Negli anni la critica dei Coen allo Star System si è affinata grazie a un'ironia che rivela tutto il loro amore per il cinema del passato, depurato da qualsiasi nostalgia. Tra fondali finti e improbabili fattorie del West, i due fratelli ci ricordano come la fabbrica della finzione si nutra di un pubblico affamato di storie, dentro e fuori dallo schermo. A quelle fuori pensano la stampa scandalistica e due gemelle giornaliste sempre a caccia di quegli scandali che Eddie deve coprire per contratto. A quelle dentro ci pensano gli stessi Coen, con una serie incredibile di personaggi improbabili e momenti comici. I due fratelli sanno però fare molto di più che far ridere. Se nel film precedente, a proposito di Davis, il gatto faceva da padrone, qui, di fronte a un cane di nome Angels, non si può fare a meno di pensare che con i Coen la risata è sempre intelligente. Grazie a tutti! Grazie a tutti!